eravamo rimasti non marirà qui no a ratatatata a ratatata non a ratatata ratatata no e adesso adesso dobbiamo aspettare aspettare che che quello entri qui aspettare che no stup aiutatemi lui mi sta tirando verso il basso lui mi arg siamo in trappola martin si hai ragione ma che cosa ci sta massacrando è Cressac Martin sei pazza Cressac è mio amico l'uomo più inoffensivo del mondo attenti guardate no accidenti che che cos'è arg no lei no ma arg crack il braccio cazzo mi ha rotto il braccio no 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 la maschera martin la maschera maledetto slash così così non non è possibile quello quello è cresa quello è quanto la maschera ha lasciato di cresa tumbe clic generale no fermo signora sono venuto a prendere questa e nessuno mi fermerà generale è pericoloso pericoloso io sto morendo signorella quale pericolo più di questo che ho da perdere molto più di quanto immagino adesso slash ah 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 ah